Ok, continuiamo la nostra campagna tedesca, passiamo alla seconda missione. Campagna di Francia, Arras. Il rapido successo della guerra lampa tedesca in Francia spinse l'alto comando alleato a organizzare una controoffensiva immediata. Questo portò alla battaglia di Arras del 21 maggio 1940, quando i tedeschi che si trovavano nel cuore del territorio francese furono attaccati dagli inglesi a nord e dai francesi a sud. Il contrattacco avrebbe dovuto fermare la testa dell'attacco tedesco e impedire alle forze dell'assi di tagliare fuori le truppe alleate stanziate in Belgio. Tuttavia, a causa dello scarso coordinamento degli alleati e della rapida riorganizzazione dell'artiglieria tedesca, le forze anglo-francesi ottennero solo un breve successo nelle prime fasi dell'operazione, dopodiché le forze degli invasori al comando di Erwin-Rom riuscirono a rispingere la controoffensiva e le truppe alleate dovessero ritirarsi per evitare a loro volta di finire in trappola. Con il fallimento della controoffensiva di Arras, l'invasione della Francia fu apportata in mano e la resistenza anglo-francese a ovest ormai quasi del tutto annientata. Qui ho già selezionato granate e bunker di sacchi e procediamo. Ok, quindi abbiamo una via principale che passa per il ponte e un guado giù a sud che sbuca direttamente la stazione. Mmm, va bene. Dunque, incominciamo a riorganizzare... e a posizionarci. Medico, tu sempre da parte. Sì, no, prima loro. Ok, qui abbiamo un ufficiale. Facciamo fuori questi francesi. C'è qualcun altro? Infanterie in bevego. Infanterie in bevego. No. Ufficiale. Mortaristi. Quattro mortaristi. Sì, facciamo un gruppo. Qui abbiamo un medico. Sì, comandante. Sì, comandante. Sì, comandante. Avanziamo. Mh, qui fucile anticarro, no? Sì. Però aspetta. Fucile anticarro, va bene. Intanto li mettiamo qua. In bevego. Questo è un mitragliere. Questo è soldato d'assalto. Soldato d'assalto. Ok, quindi vai con loro. Infanterie in bevego. Tu sei il mitragliere. E vai con l'ufficiale. Questi sono ok. E il medico sta lassù. Questi... Ecco qua un altro medico. Un altro mortarista. Tre medici. Addirittura... Ah no. Sì, comandante. Ok. Così. Vediamo. Veloce, eh? In bevego, comandante. Ok. Dunque. Qui. Così. Qui. Così. Questa è vuota. Sì, è vuoto. Qui c'è l'ufficiale. E andiamo qua. Mentre qui... Ufficiale. Qui. I medici. Ah no. C'è l'avono qua su. Quindi. Ok. Qua. Ah ah. C'è un altro. Qui. Si. Facciamo così. Tu qua giù. No. No. Eccoci qua. Prendiamo... voi tre. Qui, manteniamo Qui, manteniamo Così Il medico Lo tengo qua giù Questo è qui Tre carri Ok Tu vai con loro Ok No Accidentaccio Non lo vado a salvare No Ho perso l'ufficiale Dannazione Maledizione Maledizione Eh Questa è brutta Manno ammazzato L'ufficiale Qui c'è un ufficiale Qui ci sono loro Eh no Va bene Vorrei dire che Faremo senso ufficiale Qui ci sono Il Nel Questa è Questa è Questa è Questa è quello è il medico quello è l'altro medico eccoci qua si dunque tu sei l'altro ufficiale vediamo andiamo qui si il tre va con loro ok 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 stammi buono un attimo andiamo qua giù ok 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 ormai ormai sono morti ok 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 qui qui abbiamo prendiamo lui ok 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 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 andiamo andiamo qui andiamo qui andiamo qui ma ma perché fermo 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 che mi distruggi tutto quello che sto costruendo aspetta aspetta piano piano che non es che Ann che che è Oh Vai vai vai, vediamo cosa c'hanno Ok, ok Questo è un cannone Ok A meno che Ah, guarda che abbiamo lasciato Un mitragliare Sì Però Potremmo sacrificare Sì, sì Prendiamo lui E ripariamo Vai vai Ok Sì, comandante Infanterie in bevego Infanterie melde sich zum Dienst Sì, comandante Ah, che se forse Questi Podrei risparmiare Sulla costruzione Aspetta Sì Perfetto Così risparmiamo anche su Dunque E qui abbiamo assicurato il posto Il posto Avanziamo qui Fucile d'anticarro In piedi E ci andiamo a posizionare qua Sì Mi piace Panza brecha in bevego Befele Bevego Ok Piano Ok Dunque Quello è il medico Questi due Porto su un terzo Ah no, aspetta Befele Eh, non è messo bene Con la benzina Lui però Andiamo un attimo qua E allora prendiamo lui In bevego Comandante Fuciliere E mitragliere Altro Fuciliere Ok Tu stai sempre con loro Tu Ti rimando giù con loro Medico 3 Oh, questi qua Sanità Sanità Unterwegs Erwarte Befele Jawohl Ah Ok 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 Infanterie Einsatzzbereit Hmm Rischi in mezzo alla strada Infanterie Einsatzzbereit Che se non sbaglio Qui c'è un altro Infanterie Einsatzzbereit Jawohl Eh, si sono lenti con le manovre Considerando che però dobbiamo arrivare qua giù Dunque Ragioniamo No, troppo vicino Eh, qui non può passare il carro Qui si Qui si Qui si Quindi tecnicamente Tu che sei il medico 5 Eh, mi sei qui Di medici Non c'è nessuno Hmm, mi serve Eccolo qua Parlavi appunto di medici Abbiamo loro Abbiamo loro Abbiamo loro Abbiamo loro Abbiamo loro Abbiamo loro Befele Verstando Superfele Superfele Bereite zum Angriff Erwarte Befehle Jawohl Beeilung Bestätigt Sehr gut Sehr gut Cheers Ziel in Sicht Verstanden Bereite zum Angriff Feuer Bereite zum Angriff Wir sind einsatzbereit, Kommandant Einsatzbereit, Kommandant Panzerbrecher meldet sich zum Dienst Erwarte Befehle Feindliche Einheiten Artillerie Einsatzbereit Befehle, Kommandant Fai stand Einsatzbereit, Kommandant Oddio carino che è E' bellissimo E' bellissimo E' bellissimo Oh, quindi per sicuro Muoversi E' bellissimo Per un attimo L'avevo perso Einsatzbereit, Kommandant Kanone in Bewegung Erwarte Befehle Ok Ok Voi Sparei qua Sempre supportare i loro due Befehle Befehle Bevegung MG Schütze meldet sich zum Dienst Questa è Erbalta? No Verstanden Ja, Kommandant Ok Erwarte Befehle Ah, i Medici Infanterie meldet sich zum Dienst Ok, i Medici Ben da wo man mich braucht Cos'altro c'è? Il riparatore Infanterie d'assalto Ho utilizzato tutti i mezzi, no? Questo è quello che si serve Per questo Hmm Ja, Kommandant Ja, Kommandant Befehle Na los Befehle Bewegung, Soldaten Ja, Kommandant Pianote Zu Befehl Beeilung Auf dem Weg Feindliche Einheiten Zubefehl MG Schütze in Bewegung Jawohl Kanone wird versetzt Einsatzbereit, Kommandant Beeilung Bereit zum Angriff Jawohl Infanterie meldet sich zum Dienst Jawohl Sanitäter unterwegs Zubefehl 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 Feind gesichtet MG Schütze meldet sich zum Dienst Transporta Einsatzbereit Na los Befehle, Kommandant Na los Jawohl Ja, Kommandant Accidentatio Fammelo uno Uno solo Bereit für die Schlacht Tötet sie Fahrzeug Funktionstüchtig MG Schütze meldet sich zum Dienst Infanterie Einsatzbereit Feuer Zubefehl Bewegung Bereit zum Angriff Zubefehl zufehl Zubefehl Zubege Le boat Zube rint Zamora Angriff Proscettiva Zube Zube Lungo Zube 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 Wow 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 Ah, c'era pure questo qua dietro Va bene, riforniamoci No, no, non attaccare E mentre questi fanno scorta Ripariamo Falta su, risparmiamo un po' di strada Hmm Vabbè, posso anche fare, sì Ma questi sono tutti mitragliari Madonna, non mi fate bene sti colpi Abbiamo dei carristi Ok, buono Ufficiale Facciamo benzina Tu sei a posto Tu ne hai bisogno Tu Fai scorta di munizioni Benzina? Ah no, quello che gli serve allora è benzina Ah, ok Le munizioni ce l'hanno Quindi, così Ok Buono Abbiamo lasciato queste ultime due Ma per il resto Va bene così Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti